Eder. Mech. Pallister. E' stato ritrovato, ma di lei non c'è più traccia. Alcuni testimoni l'hanno vista a Milano e le ricerche si sono estese in tutta Lombardia, Marame alta 1 metro e 62, con capelli neri lisci e occhi neri. Al momento della scomparsa indossava una tuta bianca della marca Lacoste. Se qualcuno dovesse vederla o avere informazioni, è pregato di contattare immediatamente le forze dell'ordine. Questa ragazza invece ha solo 13 anni, ieri ha preso un treno che da Fano doveva portarla a Roma, non si sa per quale motivo per incontrare chissà chi, ed è sparita da quel momento. Lui è Serai Diniz, detto Sergio, ha 15 anni, è alto 187 centimetri, ha i capelli biondi e gli occhi castani, è scomparso il 18 dicembre 2023 da Napoli. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale! Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!